C'è chi è uscito a fare jogging, chi passeggiava e arriva al mare e chi ha preferito farsi un giro in bicicletta. La zona rossa complice il bel tempo e le temperature primaverili di oggi non spaventa i pesaresi che sembrano aver recepito le regole. Questa mattina la situazione era ben diversa rispetto a quella che si è registrata lo scorso sabato, giornate in cui qualche parco cittadino è stato preso d'assalto da ragazzi e famiglie e dove inevitabilmente si sono registrati assembramenti. Il passaggio in zona rossa incide anche sull'attività motoria e sportiva, le passeggiate non sono vietate ma devono essere svolte in prossimità della propria abitazione nel rispetto del distanziamento e con uso obbligatorio della mascherina. È tuttavia possibile nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento, per esempio attraverso la corso per mezzo della bicicletta, entrare in un altro comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza. Riuscito a fare un giro in bicicletta? Sì, sì, in bicicletta mantenendo la distanza si riesce tranquillamente, è consentito quindi l'attività sportiva è lecita. Quindi lei la sta vivendo bene questa zona russa? Bene relativamente, nel senso che le restrizioni sono molte, però è tutto a fin di bene. Una bella giornata, la viviamo tranquillamente come si può, facciamo un po' di attività fisica, cerchiamo di mantenerci in forma. La nostra vita è questa qui praticamente ormai, cosa ci vuoi fare? C'è una camminata se si può intorno a casa così, giriamo e rispettiamo le regole. Speriamo che non ci faccia la multa, perché ieri mattina c'era la polizia qua, so che facevano le multe, ma non so per quale motivo. La vivete bene, una passeggiata intorno a casa? Tanto l'alternativa, facciamo tutti i giorni, anche se non c'è la zona rossa, la nostra vita era questa, non è che ci cambia tanto, ci dispiace che non c'è un bar aperto, un caffè dentro il bar a sedere, tutto lì insomma. No, benissimo, per fortuna lavoro metà giornata, quindi va bene, dai. Stamattina sei riuscito a fare una passeggiata? Sì, dai, un giretto, visto che c'è il sole. A casa, per la mia età esco poco, faccio le strade meno frequentate e aspettiamo.